Questo libretto che mi ha pubblicato Notte e Tempo ha un titolo forse curioso, animali e altri attori perché sì oltre agli animali ci sono altri personaggi ma devo dire che gli animali fanno sicuramente parte della categoria attori perché l'animale e soprattutto il cane che ho privilegiato e i gatti cioè gli animali domestici si esibiscono in continuazione e fanno parte della nostra vita anche per questo. Quindi sono molto grata alla casa editrice Notte e Tempo perché in questo libro c'è gran parte della mia storia perché tutta gran parte della mia vita è stata fiancheggiata da un cane, due cani, un gatto, tre gatti. Adesso sei cani e due gatti. Grazie a tutti.